buongiorno qui siamo nel diluvio chissà se ci regge la connessione boh io vi aspetto fiduciosa però ha iniziato a diluviare seriamente vabbè questo ovviamente giusto quando stavo accendendo le lampade per il live vabbè speriamo che la connessione regga vediamo buongiorno buon sabato qui diluvia non credo che rinfreschi perché sta tirando su un'afa di quelle che ha dios se capite cosa intendo quando piove ad agosto con queste temperature ma allora qui non ci sono 40 gradi fa caldo però adesso questa pioggia sta tirando su un'afa vabbè vabbè speriamo che regga la connessione cosa dobbiamo fare buongiorno allora ho smesso di fare gli ordini tutto quello che non è stato elaborato adesso lo lavoreremo lunedì in mezzo agli ordini spero copiosi e numerosi della nuova release mal di testa guarda oggi è il secondo giorno che non ho mal di testa dopo tipo 10 giorni è stato una roba veramente atroce diciamo che farei volentieri a meno ma c'è quel periodo del mese in cui ogni tanto va così che faccio una settimana barra 10 giorni di mal di testa una roba allucinante vabbè adesso passato ma penso di aver fatto fuori tutto l'auling che avevo in casa anche di misuride tutti tutti i generici che potevo avere in casa adesso vado a rifare scorta e vabbè cosa dobbiamo fare buongiorno mi sono fatto un caffè che è quasi un cappuccino ho mangiato di corsissima stamattina ho iniziato ad investire il progetto davvero c'è il sole claudia madosca qua sta venendo giù c'è noè in cortile che viaggia voleva far salire tai e sirus io ho detto che li tengo con me prende poco il telefono ma qui c'è questo mega diluvio spero che la connessione regga non sta tuonando né altro ma prima quando ho scritto su telegram c'era un frastuono pazzesco anche a venaria e vedi adesso si sposterà anche da te claudia perché non è giusto se no sole e vento e 40 gradi madosca allora dunque dicevo che ho iniziato ad imbastire il progetto che faremo come tutti gli anni il progetto di natale prima ad agosto quindi prima di chiudere per la settimana di stacco generalmente faccio un progetto di natale neanche l'anno scorso abbiamo potuto farlo in presenza ovviamente neanche quest'anno noi abbiamo scelto di rimanere chiusi ma sto preparando il progetto intanto vi faccio vedere il progetto non ve lo faccio ancora vedere ma vi faccio vedere che mi sono pensata le bustine per mettere dentro tutto quello che mi servì tutto quello che ho avanzato qui dentro c'è tutto tutto il work in progress tutti i ritagli le varie cose io ce li ho qui quando riprendo a finire il mio album quando riprendo il mio album non mi piaceva tanto quella costruzione ho tutto qua c'è chi fa shopping in boutique Tiziana e io faccio shopping in farmacia che problema c'è? Non capisco il caldo è una cattiveria pura fa tanto tanto caldo Daniela comunque allora queste qua sono le buste che trovate l'anticamera dopo il riso dei ritagli e che ho iniziato ad usare perché ho iniziato a mettere su l'albumino che faremo per la chiusura prima di la settimana prima di ferragosto insomma chiuderemo dal 9 mi sembra che sia il lunedì quella settimana lì e quella settimana dopo saremo operativi mezza giornata allora credo che manderò una comunicazione a tutti gli abbonati ai kit dicendo che siccome se non succede niente quindi lo prendiamo super stra virgolettato se non succede niente dovremmo avere i timbri per fare i my 12 days a inizio agosto il 3 o il 4 il 4 credo se riusciamo a spedire qualche kit prima della chiusura ben volentieri che così ci portiamo avanti quel lavoro chiederò a chi non può riceverlo in quella settimana lì di avvisarci ma poi ve lo scrivo bene tutto insomma i contagi stanno lievitando vedi sfocato probabilmente perché ero lì che armeggiavo con le mani mi spiace come si... le buste se cerchi paradiso se come si sono fuori le trovi sotto le attrazzature della cle se cerchi buste flap dovrebbero saltare fuori sono in pacchetti da tre e tra l'altro sono arrivate ma non ho ancora la confezione le bustine per le slim per le slimline che sono più grandi delle altre adesso vi faccio vedere anche una bustina di quelle vecchie cioè di quelle vecchie di quelle... di quelle normali a cinque vedete sono più lunghe e più larghe così ci sta tutta la slimline il talloncino di carta no ma mi sembrava esagerato così insomma almeno posso tenerlo qua prima di ferragosto eh sì credo che in quell'occasione pubblicherò il preordine e poi... e basta sì 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 così avremo tutti i nostri ordini da fare pre ferragosto allora questa non la useremo oggi in realtà volevo solo farvi vedere la bustina ho ordinato i sacchetti di questa dimensione però non mi sono ancora arrivati quindi non possiamo ancora confezionarle non che avremmo potuto avere il tempo in questi giorni perché stiamo preparando i bundle madre sta preparando i bundle della collezione di Natale no non sono ancora online perché non avevo i sacchetti li ho ordinati ma non si sono coordinati i sacchetti sono ancora in viaggio e le bustine invece sono arrivate ieri insieme al reintegro di quelle 5 che avevamo finito che stavamo finendo insomma e allora dunque domani mattina 9.9 e un quarto vi faccio vedere tutta la collezione di Natale vi anticipo che Fustelle finalmente abbiamo rintracciato gli Enamel Doz stanno arrivando se tutto va bene Fustelle e Enamel Doz arrivano lunedì lunedì arriva anche Coco Vanilla tutto bene penso ritengo che riusciremo a gestire gli ordini come se avessero dei pezzi in attesa diciamo lunedì mattina poi quando arriveranno i pezzi lunedì pomeriggio inizierò a distribuirli finirò il giorno dopo ma va bene agosto per il progetto di Natale non questo di agosto quello proprio un binder far fare un binder allora le quantità che richiedono sono un po' altine ancora per quelli che sono i miei numeri però possiamo sempre chiedere a Bottalico che dite cioè io userei se lui fa dei nuovi contenitori o anche quelli dello scorso anno quelli in bianco e nero io ne avevo usati 4 lo scorso anno vi ricordate la Fustella la nostra Fustella allora non ho il cartoncino da farvi vedere perché ce l'ho domani magari ne stampo una diapositiva aspettate che avevo qua la bustina con tutti gli esempi allora la Fustella collegata alla collezione di Natale vi fa fare tutti i dolcini io adesso li ho divise qua per cioè li ho raggruppate voilà ci sarà il lecca lecca il muffin i due biscotti la coccarda e un dolcino adesso cerco perché dovrei avere anche qui da qualche parte gli esempi che avevo tagliato ah tra l'altro ho qui Lillo il mio nuovo puntaspilli lo teniamo qua patatino me l'ha regalato Sara è bellissimo vabbè questa è la coccarda diciamo tutte le cose così in viso che tristezza vabbè questa è la questo è il biscotto uno dei due biscotti e ve lo racconto poi bene domani però in realtà la Fustella scontorna anche il timbro se no usiamo quelli dell'anno scorso assolutamente volevo vedere vabbè li cerco per domani prometto perché ho una busta con tutti i fustellati pronti gli esempi ah guardate forse sono qua che magari me la tengo a portata di mano per esempio questa qui per farveli vedere domani questo è il fiocchetto questo è il muffin che si può creare è sempre il solito concetto di una base intera su cui appoggiare poi vari elementi c'è la coccardina che mi piace veramente tanto questo biscottino qua il lecca lecca gigante che sta tranquillamente sta iniziando a tuonare Claudia eh per forza il dolcino sono gli elementi della collezione insomma comunque domani ve li faccio vedere bene magari questi me li tengo qua è così poi li trovo gli enamel dots sono ancora in viaggio ma vabbè perché sono partita mesi e mesi mesi fa a fare questa preparare tutta questa roba per la collezione ovviamente comunque c'è sempre qualcosa che va storto però insomma ieri sera è già andata molto meglio di ieri mattina che la risposta alla domanda dove sono i miei enamel dots caro fornitore non lo sappiamo ti aggiorniamo ok adesso che so dove sono mi sento una personcina un pochino più tranquilla allora adesso mi bevo il caffè queste fustelle sono le fustelle della collezione di Natale non c'entrano con con l'abbonamento queste dei dolcini sono all'interno della collezione della mia ricetta per Natale saranno dentro il bundle quello tutto tutto tuttissimo e sono tutte insieme mentre le fustelle quelle degli animaletti si può fare l'abbonamento oppure tantissimi di voi l'hanno già fatto oppure potete decidere mese per mese quale prendere che senso è farci vedere no no perché non ce li ho tutti insieme tiziana madre sta assemblando no non farmi questo perché domani è il 25 tra l'altro ci tenevo questa cosa è totalmente psicotica mi rendo conto però domani è il 25 Christmas in July mi sembrava assolutissimamente una congiunzione astrale perfetta che ovviamente non sono riuscita a rispondere sì Lillo mi ha regalato Sara è bellissimo così posso ho tutti gli spigli a disposizione per per disotturare qualsiasi cosa ok ah sì sì lo metto qua ma guarda io non sono abituata evidentemente ad essere particolarmente ordinata quindi quando cerco di dare un senso logico ordinato e che possa avere un certo filo razionale nella disposizione delle cose non trovo mai più niente vabbè allora quello che vorrei fare oggi è provare questa fustella di Lofan che è la la card pop up è la cardina box tendenzialmente che vi fa questa adesso facciamo la prova però secondo me riusciamo a farci uscire sia Nina che il nostro svaldo se Nina è troppo è troppo alta piuttosto la facciamo sedere diciamo così per gli animi sensibili allora prima di fare qualsiasi altra cosa io ho preso qua le nostre due fustelle questa qui è la bustina che non c'entra niente ho preso queste due fustelle di moda scrap che vorrei provare e un paio di carte avevo l'url grey qua ok il scrap qui allora prima di fare qualsiasi altra cosa vorrei assemblare le due scatoline per vedere di che tipo di grandezza stiamo parlando perché in effetti non l'ho mai vista non mi ricordo magari l'ho anche già vista ma non non me la ricordo non ricordo quanto sia grande non l'ho ancora fatta vedere la collezione di domani la faccio vedere domani vi ho solo fatto vedere qualche cosa delle fustelle insomma sono pessima con la comunicazione però domani la presentazione ufficiale guarda vintage simple simple il lemon twist il vintage costel dovrebbero essere in viaggio non ho ancora ricevuto lo sdoganato però dovremmo esserci finalmente allora dunque tiriamo fuori questo allora la fustella ha tutta una serie di add-on che adesso noi cerchiamo di separare vedi la bustina era stata super previdente l'avevo presa allora non riuscirò mai a separarle con questa perché magari riesco anche solo così ha una serie di add-on che ci fanno la mattatura delle varie parti allora poi questi sono bannerini ci sono delle stelline ci sono i bunting che servono a fare i bunting la vestiglia di papo natale tu guarda non mi non mi provocare perché io cioè natale potrei festeggiarlo anche adesso eh volendo allora qui dovrò fare intervenire necessariamente le forbici di team quindi se ci sono animi sensibili non guardate allora questi qui più grandi sono la mattatura della base della scatolina io farò la scatolina craft cerotti di questo sì ma in realtà potremmo poi aggiungere delle carte perché mi sono resa conto che non ho preso i capelli di Osvaldo ma magari li facciamo gialli allora è che veramente questi fili qua sono infingardi e non ho fatto in tempo neanche ad aprirla prima perché mi sono messa a preparare il progetto allora tagliamo la testa al toro un paio di forbici proviamo ah no queste sono troppo grandi no niente cioè comunque urge una visita dalle Rois Merlin niente dobbiamo prendere le forbici di Tim Holtz siderenate e fare così urge una visita dalle Rois Merlin a prendere a prendere assolutamente un paio di tronchesine con la punta sottile perché quelle che ho preso con la punta tonda sono fantastiche ma se non c'è lo spazio non c'è lo spazio così questo lo possiamo togliere questo qui è la parte interna qui volendo ci fa la collinetta ma a noi in realtà questa parte qui per ora non serve allora una cosa che potrei avrei potuto aggiungere alla fine non ho fatto ma forse ci servirà è l'acetato perché con l'acetato potremmo far saltare fuori da questa scatola una serie di nuovi di nuovi elementi adesso vi faccio vedere appena finisco di dettabizzare questa roba qui buonasera Nina ha detto che vuole il capello suo l'ho vista che li guardava e faceva finta di essere gem ma questi qui sono quelle di Lofan sono sempre unite così per fortuna le mie non le uniscono ci metto un'ora a tagliarle ok allora prima di fare danni vari ed eventuali tutti questi pezzi qui li mettiamo nella bustina anche così non li perdo sì c'è anche la collinetta stai iniziando a mazzare vero c'è una roba che quando ho detto ok mi sto preparando per il live ma non mi sentirà nessuno con questo rumore maledetto karma ok questo la chiudiamo ho preso una bustina difettosa no ok allora per ogni scatolina dobbiamo tagliare due parti di queste se non ho capito male allora due parti di queste se siamo fortunate e hanno studiato bene la carta sì in un 6 pollici ci stanno quindi tagliamo la carta a 6 pollici questo è uno studio furbo non tutti lo fanno lo fa e siamo molto contenti mamma mia ma io non volevo neanche attaccarle con lo scotch sul retro del cartoncino perché perché poi per parcondicio come rompo le bustine degli altri rompo anche le mie e pareva brutto sulle mie un brutto segno però scappano senza nastro scappano e anche il produttore quando ho mandato quelle di Natale mi ha detto tu lo sai che è vero queste vanno per forza fermate va bene allora guardate è giusta giusta buon pomeriggio che arriva adesso noi siamo qua con Lillo che è il mio nuovo puntaspilli allora una facciamo l'altra l'altro pezzo e poi potrei quasi quasi tagliarmi uno due inserti la collezione ci sarà sempre sarà un continuativo fino a Natale sicuramente insomma non credo che finiremo quello che quello che abbiamo non vi preoccupate potrebbero finire magari le carte ma quelle le possiamo le facciamo ristampare abbastanza in velocità gli abbellimenti insomma ne abbiamo presi in abbondanza quindi ritengo che non sarà necessario fare grandi salti mortali per poterle riavere quindi state tranquille i bundle ci siamo organizzati quest'anno per rifarli se dovessero finire però insomma ne stiamo preparando un buon numero poi ripeto magari ci mettiamo un attimo di più a chiudere l'ordine ma se se finiscono li rifacciamo non vi preoccupate allora così e da qui ne tiro quindi da una metà di foglio della struttura sto ricavando una box intera avete visto che meraviglia l'album di Mariella ciao Mariella questo gelataio davanti adoro allora prima di fare l'altra vediamo se riesco ad assemblarla senza particolari danni allora sì sì a Natale ci sarà questa collezione qua nostra la collezione legata ai My 12 Tales e quella in stile Ighe che è un po' tipo lo stile delle piccole cose in cui ho finito di fare le carte adesso devo lavorare sugli abbellimenti che è la parte più piacevole allora prendiamo una pieghetta sono sfocata io mi vedo bene però magari qui stava diluviando quindi proprio quando ho iniziato a prepararmi per il video mi sentirà nessuno ok allora vediamo un po' la logica dovrebbe essere piuttosto semplice queste piegate o così all'infuori e si dovrebbe unire questo qui e questo qui ma guarda è fatta è veramente semplice poi questa si piega così ed è fatta fino a che data spedisco allora stavo giusto dicendo questo che probabilmente domani o lunedì manderò una mail a tutti gli abbonati per dire che e poi farò la comunicazione anche per le altre spedizioni per dire che se tutto va bene potremmo riuscire a spedire qualcuno dei kit non tutti prima della nostra chiusura il 9 di agosto chiederò agli abbonati di segnalarci laddove non si debba spedire tendenzialmente noi siamo aperti fino al mi sembra il 6 o il 7 che è il venerdì di quella settimana credo che faremo fare ancora un ritiro il 9 che siamo già chiusi e poi riprenderemo a spedire dal 17 non ho il calendario però dal martedì perché il lunedì riapriamo quindi il tempo di lavorare gli ordini e poi ricomincieremo a spedire allora fatemi vedere dovrebbe essere una cosa super 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 semplice tipo così il calendario dell'avvento lo preparo mentre sono in ferie ma in realtà quel cosino ho già fatto ma tanto sarà poi scaricabile come l'anno scorso dal primo di dicembre e sarà in ordine in preordine per chi vorrà la versione stampata penso da metà ottobre una cosa del genere questa è piuttosto semplice ce la posso fare sì allora questi probabilmente sarebbe stato molto più furbo attaccarli nel momento in cui prima di chiudere la scatolina ma non lo facciamo adesso a parte che non so se metterne uno se metterne due comunque questi vanno attaccati si fa la z scusatemi e si attacca uno qui e uno qui avrebbe avuto più senso la prossima l'attacchiamo nel momento in cui sono ancora aperta però direi che va bene facciamo una prova se la trovo con una nina già montata ah sì sì è perfetta questo può stare sì 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 la possiamo appoggiare qui e lei esce fuori bellissima questa è la non lo dico da sola questa è la pop si chiama aspettate che dove sei il nome qua scalloped box card pop up in pratica è la cardina box se cercate dei tutorial si può fare tranquillamente anche a mano io l'avevo fatta a mano tempo fa è facilissima però ovviamente una volta che la montiamo con la fustella è molto molto più semplice allora adesso quindi mi taglio un'altra fustella un'altra scatolina quindi altri due elementi altri due di questi poi vediamo se usarli la mattatura la tagliamo dopo eventualmente prima assembliamo i nostri due amici Nina mi è rimasta qua quindi prendiamo la big shot e ce la teniamo qua a questo punto perché poi dovremmo fustellare anche i nostri due amici prendiamo il pezzo di craft aspettate il pezzo di craft che abbiamo avanzato che è qua a cui togliamo la cimosa se no mi sa che non ci sta nel piano della big ok così questo lo teniamo qua allora due pezzi di questa guardate la appoggiamo qui e fustelliamo facciamo la seconda parte piano piano le proviamo tutte queste fustelle della low fun questa era veramente semplice ho pensato ho avuto la presunzione di non guardare neanche il video tu intendi l'abbonamento o il kit singolo in ogni caso si specificaci nel primo ordine che fai temporalmente che vuoi che venga spedito con un altro ordine che fai sono in ferie dal 9 quella settimana lì che finisce con ferragosto non mi ricordo se si inizia il 16 deve essere il lunedì riapriamo il lunedì quella settimana lì come lo scorso anno lavoreremo mezza giornata cercherò proverò a lavorare mezza giornata non so se riuscirò ma io vorrei tanto e basta poi si riprende ovviamente pieno ritmo anche perché la settimana dopo quindi se il 16 è lunedì il 23 o giù di lì vi presenterei la collezione autunnale se abbiamo tutto ad agosto dovrebbero arrivarci tutti gli abbellimenti avrà qualche pezzo in meno rispetto a questo non avrà i timbri non avrà la fustella però avrà tutti gli abbellimenti tutti gli appicchini possibili immaginabili ovviamente ok allora la base la card la assembliamo magari dopo adesso ci tagliamo tutti i pezzi ci tagliamo tutti i pezzi che ci occorrono per comporre prima Olivia e poi Osvaldo ne facciamo due ne facciamo cinque ciac ce l'ho fatta quasi subito questa mi sembrava veramente semplice allora iniziamo dal nostro amico Osvaldo allora per chi me l'ha chiesto lo dico perché magari c'è qualcun altro che ha che ha questo dubbio da lunedì 16 Chiara è pronta a contare perché facciamo un aggiornamento della logistica poi era donna non so secondo me il 17 si dà la macchia e cosa vi stavo dicendo mi sono persa l'abbonamento per il mese di agosto allora Rosi il tuo si rinnova già da solo il rinnovo del mese di agosto che sarà però il kit di settembre siccome il tecnico va in ferie avverrà il giovedì che se non sbaglio è il 5 ma vi scrivo tutto bene domani quindi quello lì lo potete pagare tranquillamente con i soliti tempi non vi preoccupate e che ho bisogno che ci siano presenti sia l'uomo del sito che il tecnico del sito perché se non funziona qualcosa nel rinnovo automatico se lo faccio fare quando non c'è nessuno non so come risolverla la cosa quindi ho necessità che si rinnovino quando sono tutti lì pronti ad accogliere la mia disperazione non so se mi piace dipinta così allora mettiamo un secondo dentro queste e teniamo la bustina però qui stai ancora qui c'è ma Barbara adesso è più veloce la spedizione che sto facendo il paperless della documentazione della dogana perché Barbara di Acheles è tenuto i nostalgiosi sui pacchi per tempo in memore allora per quanto riguarda svaldo prendiamo un pezzettino di carta mia bianca e lo mettiamo qua stavo per dire una cosa importante sfatiamo e non me lo ricordo pensate come sto messa secondo me volevo dirvi ah no questa cosa del kit di luglio stavo per dirvi questa cosa qui sì perché me l'avete chiesto in diversi magari un dubbio che vi può venire l'abbonamento alle fustelle se lo fate adesso con il prodotto che c'è parte da agosto come esattamente come l'abbonamento di My 12 Tales l'ordine si genera un mese prima quindi se vi abbonate la prima fustella utile che vi arriverà con l'abbonamento sarà quella di Olivia il flamingo se volete recuperare Nina e Osvaldo Osvaldo è ancora scontato al prezzo dell'abbonamento lo trovate sempre a 14 euro vi ho messo il link nella descrizione del prodotto il link dunque il bundle di Natale sarà messo online domani e sarà ordinabile a oltranza fino a quando avremo materiali per farli ma guardate se vi esaurite i materiali io sono molto contenta però dubito che ci possa essere l'avenienza che noi con le esigenze presenti non siamo da capire allora Osvaldo dobbiamo fare la sua bella chioma che abbiamo qua codino ciuffo e criniera e poi qui abbiamo il musino io li farei in questo giallino che ho preso di moda scrap le vorrei fare molto molto delicate come colori perché ho preso le fustelle baby con queste nuvolette sono deliziose quindi ci tenevo ad avere una cosa un pochino easy prendiamo un pezzetto di questa carta questa che è la carta numero 5 spero che torni ciao Valeria spero che torni solo che mi sono tanto raccomandata di farmi sapere quando sarebbe stata assente perché dovendo far generare 500 abbonamenti avevo necessità di programmare tu prenotalo Vagna si si prenotatelo non vi preoccupate voi prenotatelo poi rimane qua cioè non c'è problema ma state tranquille allora qui abbiamo i pezzi di Osvaldo che sono troppo sottili il bundle è a un prezzo già scontato quindi qualsiasi altro codice sconto non è valevole sul prezzo del bundle questo funziona vale sia per lo sconto compleanno che per lo sconto fidelity quando i prodotti sono già scontati di loro e in questo caso è più scontato dello sconto fidelity non si applica lo sconto del bundle la metto anche a Nino guarda adesso adesso la ce l'ho qua no vabbè io la trovo meravigliosa lei è in versione The Walking Dead perché non avevo era il sample e non avevo ancora cioè le mettiamo il cappello e la criniera non potete capire ho riso tantissimo ho riso tantissimo quel live è stato meraviglioso quando avremo anche Olivia ci sarà il cappellino quindi qua avremo guardate così sembra col ciuffo è meraviglioso è meravigliosa no l'abbonamento il prezzo che vedete nell'abbonamento è il prezzo dell'abbonamento perché poi c'è chi sceglie di unire l'abbonamento ad altri ordini quindi pagare le spese di spedizione di versamento o aspettare di arrivare alle spese gratuite e chi decide invece di mettere già le spese nell'abbonamento nina e le holograms è meravigliosa i pattini saranno nella fustella di natale c'è questa rendina con i pattini morta va bene va bene va bene va bene non succede niente tutto a posto allora mettiamo qua la chioma di Osvaldo e dobbiamo tagliare l'unicorno e il musino allora il musino lo tagliamo nel pale rose aspettate che ne tagliamo un pezzetto e l'unicorno avrei potuto tagliarlo in craft aspettate intanto tagliamo questo e poi piuttosto l'unicorno lo tagliamo di nuovo nel craft ancora più bionda mi ho risultatissimo perché se avessi vi assicuro che per come sono smanata se avessi provato a far combaciare gli elementi di Osvaldo con quelli di Nina non ci sarei riuscita è un puro caso un puro elemento di fattore C che ha portato a questo risultato perché curatevi allora ma anche l'unicorno rosa non è male non lo lasciamo rosa no dai lo ritaglio in craft su via non facciamo economia così allora tagliamo l'unicorno solo l'unicorno e poi assembliamo Osvaldo dopodiché taglio i vari pezzi di Nina due chiome a Nina una destra e una sinistra adesso ci provo allora tiriamo solo via l'unicorno da qua così ok mettiamo via questo riprendiamo un attimo tagliamo solo un altro pezzetto di chioma per fare una prova così non ci serve solo la chioma anche se poi col ciuffetto guarda io sono già contenta per ora che mi sia passato il mal di testa quindi un pezzo alla volta one day at a time e qua ok così abbiamo tutto doppio Nina l'ho rimessa qui allora in realtà bisognerebbe posizionarla nel momento in cui è smontata surfing USA proprio i beach boys allora questa va fustellata nell'altro senso aspettate non ci ho pensato va fustellata girando la carta così ah io mi diverto un casino sto giro quantomeno una parte del lavoro è estremamente divertente aspettate che ho zoomato mi sono scialata con lo zoom ma ok l'abbonamento alle fustelle potete usare anche il pagamento concordato esattamente come il resto mi serve solo avere l'abbonamento perché così so quanti quanti orientativamente devo ordinarne in più va bene muoio aspettate così 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 e poi potremmo addirittura se abbiamo il ciuffo fatto dall'altro lato dovrebbe essere qua sì state tranquille esattamente come il kit non vi preoccupate vabbè con i buoni regalo non so come farlo ma stiamo per attivare la cosa del wallet cioè me lo devi dire lo dobbiamo fare lo dobbiamo fare a mano come l'altra volta Letizia appena riusciamo a sistemare questa cosa del wallet che è questione di giorni con quello lo potrai pagare cosa non è è stupenda io la adoro va bene adesso torniamo a fare le personcine serie un attimo mettiamo via i pezzi della postella di Osvaldo così allora dunque Osvaldo mamma mia quanta roba c'è qua sopra vediamo se riesco a fare un pochino più di spazio ok questa la possiamo intanto spostare qui così ok allora assembliamo Osvaldo allora colla prendiamo uno spillo liberiamo la mia colla la coda dell'unico come codini no vabbè Manuela ma che cosa mi stai dicendo questo girato ovviamente no vabbè conciuffo tipo qua è meravigliosa pure non l'è vabbè adesso adesso lavoriamo su Osvaldo ve lo prometto ok allora prendiamola non ne perdo una e iniziamo ad attaccare prima di tutto il cornino perché va poi posizionato sotto il ciuffo quindi lo posizioniamo qui così poi abbiamo il musino che possiamo già fare che mettere tutto questo ovviamente avremmo potuto utilizzare la carta biadesiva ma ok che lì non mi ha fatto i due forellini forse perché nella aspettate poi li ho tolti scusate un secondo no no ci sono però devo aver girato il contrario aspettate perché nel musino ci sono le due narici adesso il rifustello si blocca qua c'è stato un brutto temporale cioè un brutto un attimo di amazzonia easier e magari la connessione non è proprio esattamente il massimo ok eccolo qua infatti vedete che ha le due narici ah ma perché quello è l'orecchio ciao Clelia adesso chiamiamo Simone un attimo gli stavo mettendo l'orecchio nel muso tutto bene no no ma poi è un'ottima pubblicità d'altro canto per il mio prodotto che manco io sappia montarlo tutto bene vabbè arrivo da tanti giorni di emicrania vogliatemi bene lo stesso ok poi se noi posizioniamo la chioma poi ci rimane giusto 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 lo spazio qui posso mettere anche la colla normale che forse mi è rimasta di là perché ho lavorato all'albumino aspettate un attimo sì eccola qua sta chiedendo un salvagento adesso mettiamo la colla qui e posizioniamo la sua chioma così poi abbiamo lo spazio già subito perfettamente definito per l'orecchio aspettate che l'avvicino un po' ok e poi mettiamo un cicinin di colla lì per l'orecchio ok e lui è il nostro svaldo delicatino che anche per una nascita qui dentro c'è la colla di Tommy e qui c'è l'anuvo io ne uso tutte allora abbiamo ancora il ciuffetto da attaccare mettiamo un po' di colla qui e lo attacchiamo semplicemente qui così come sono arrivata ad aprire un negozio che bella domanda io nasco come psicologa in realtà io ero una psicologa clinica poi ho lavorato tanti anni nell'HR come selezione del personale nelle risorse umane e questo qui è un negozio di famiglia l'hanno sempre avuto mamma e papà papà non c'è più da tanti anni ormai e l'idea è stata a un certo punto quella di alleggerire il genere questo era un negozio di alimentari da coda brava questo era un negozio di alimentari che cosa puoi aggiungere a un negozio per vendere qualcosa devi conoscere quello che vendi devi conoscerlo bene e allora cosa meglio dello scrap ho iniziato a corrompere madre dicendo mi dai due ripiani di uno scaffale io porto due bazil e siamo a posto e poi la cosa mi è un pochino sfuggita di mano un pochino ha avuto molto molto più successo di quello che si poteva prevedere ed è diventato inconciliabile col lavoro nel senso che sul lavoro quello in azienda nella multinazionale dove lavoravo mi hanno fatto una proposta di avanzamento che sarebbe stata fantastica tre anni prima e poi invece non mi avrebbe più permesso di lavorare in negozio e ho detto di no mi sono dimessa ho lasciato un tempo indeterminato in una multinazionale mi hanno dato in tanti della pazza ma io sono contenta sicuramente sono molto più povera adesso ho molte più preoccupazioni ma sono molto più serena sul lavoro problemi ce ne sono dappertutto ragazze cioè non c'è un lavoro perfetto però almeno in questo ho questo spazietto scaccia pensieri che serve a più 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 cose Nina un pochino mi è sfuggito di mano un attimo sì c'è chi mi segue da qua c'è chi tra i clienti era semplicemente una amica con cui condividevamo i meeting condividevamo i corsi e poi hanno visto l'evoluzione del negozio che si chiama il negozio della mamma di Cle perché è il negozio della mamma cioè su questo ci tiene particolarmente a far sì che non si vada sì sì lo facevo da diversi anni lo scrap prima mi è sempre piaciuto molto era sicuramente lobby dominante e siccome quando devi vendere qualcosa quello che vendi questo lo dice la psicologa dell'HR lo devi conoscere bene deve piacerti Steve Jobs diceva ama quel che fai è il miglior modo per fare un buon lavoro e ci credo fortemente allora ho scelto questo era il 2015 era agosto del 2015 quindi adesso sono sei anni e ho lasciato l'altro lavoro sarà tre anni così a fare gli ordini tramite facebook sì esatto che adesso non ci posso pensare a una cosa allora tagliamo Nina quello che ci serve di Nina qui c'è la boccuccia con gli occhietti che faremo poi più scuri allora prendiamo un Earl Grey che dovrei avere qua non sono mangiato ah no l'ho messo qui ok guardate questo qui è l'Ell Grey in magazine madre faceva i panini al prosciutto durante i corsi questa cosa ha scatenato grande in tante persone però mancano non è terapeutico ed inclusivo un gruppo che vorrei proporre un corso allora da psicologa ti dico che tutto ciò che tu vuoi rendere terapeutico si può rendere terapeutico terapeutico è tutto ciò che ti aiuta a raggiungere uno scopo se questo scopo lo raggiungi attraverso il memory keeping attraverso il card making attraverso la pittura attraverso il canto attraverso la scrittura creativa la psicologa ti dice che va sempre bene secondo me le dirette al mattino sicuramente io trovo che quest'hobby se lo affronti nel modo giusto sto sperando i prodotti della sanità mamma mia sì non ci voglio neanche pensare se lo affronti nel modo giusto quest'hobby quindi senza competizione senza voler per forza essere the best in the world ma semplicemente volendoti divertire sappia dare veramente tanto e sia possibile trarne tanto no bisogna lasciare fuori tutto il brutto che c'è un po' in tutti i contesti creativi secondo me cioè in tutti i contesti degli hobby non necessariamente creativi bisogna prendere il bello un po' di tutto no io sono sempre stata di quell'idea allora Nina ciao Nina le braccia nelle braccia di Nina vorrei tantissimo mettere una nuvoletta allora la boccuccia che c'è qui di Nina non è perfetta rispetto all'intaglio quindi quando fustellate recuperate il il sorrisone che c'è qua che adesso lo tiro fuori prendiamo uno spillo sparavo i prodotti con la la pistola sparacodici per caricare i prodotti sul sito volevo morire c'è stato un anno in cui questo bip praticamente lo sentivo anche di notte è stato drammatico ve lo dico allora poi prendiamo il pale rose e ci tagliamo la pancia di Nina e direi che fatemi vedere se si beh avrò sicuramente le orecchie le orecchie le narici queste qua da tagliare qua così perché qui poi ci sono i denti questi sono i denti gli occhietti vanno in bianco e questi vanno in nero ok in nero o in un colore comunque più scuro il codice a barre mi ha distrutto il sistema nervoso quell'anno mamma mia cosa ho fatto di male così hai aggiunto la lingua e come no non l'ho visto perdonatemi non è mancanza di arrivo poco a tutte le notifiche e ci arrivo magari la sera che sono più di là che di qua allora fatemi spostare queste nella bustina un secondo è un po' più semplice col sito sì è stato complicato trasporre sul sito tutto quello che era il processo di vendita che non volevo perdere che avevamo improntato con facebook è un po' complicato mi rendo conto talvolta la gente mi dice troppo complicato ordinare da te però la comodità di poter cumulare gli ordini di poter fare un sacco di cose in più rispetto a un sito normale in qualche modo va compensata a parte con la mia sanità mentale con la pancia io ritengo di essere una persona professionale su alcune cose sì senz'altro sono una che ha sempre o facevo piange all'estegista ho sempre preteso tanto ma in questo momento in cui attacco in collo mi sento veramente semplicemente una persona che ci si diverte con quello che fa così è molto carina in effetti questo va tirato più giù e così è la linguetta amore e in realtà mi dicono che alcuni processi sono complicati tipo i preordini che sono separati dagli ordini ma mi è di vitale importanza che siano separati per la corretta gestione quindi insomma un pezzettino alla volta allora fustelliamo questi che sono i dentini e il bianco degli occhietti e lo fustelliamo da un pezzettino di bianco il campanello per Elisa mi ha causato anni di terapia l'abbiamo tolto basta c'era sta roba che suonava mentre facevo i live sono cambiate un sacco di cose da allora sia in termini di lavoro sia in termini a livello personale sia in termini di un contesto economico sociale che insomma la pandemia e tutta questa robina qua ok allora prima ci vuole il doppio carrello guarda io sto insistendo con l'uomo del sito prima o poi l'avrò vinta perché non è che io proprio mi arrenda continuo a dirmi no ma aspetta allora prima di decidere come assemblare Nina ho bisogno di decidere come voglio metterle le braccine guarda Daniela la carta ti aspetta se è un periodo complicato e non ti va non devi fare niente cioè sono di quelli da lì cioè poi quando avrai voglia e sarai serena ritornerà la voglia io ho sempre pensato questo allora potremmo mettere le braccine di Nina in alto che tengono una nuvoletta ma siccome non ho idea di quella che è la dimensione delle nuvolette adesso prendo la fustella di monoscata e facciamo una prova ho una bella voce io mi sento una quando mi riascolto mi sembro una dodicenne invece che una quarantaquattrenne ma vabbè allora questa fustella che adesso da Modenini spero che non mi guardi non perché mi tolgono i prodotti romperò la bustina perché non riesco a toglierla ok fatto allora tu adoravi il campanello guarda mi dispiace ma io proprio gna facevo allora la nuvoletta più grande questa qui in effetti è abbastanza grandina secondo me allora proviamo a fustellarne una e vediamo se ci sta tra le braccia di Nina io questa la fustellerei in bianco semplicemente sono deliziose queste nuvolette perché hanno il faccino guardate detto che facciamo un passaggio le fustelliamo tutte trasloco saluto lo so io se dessi retta quest'anno se non mi sforzassi sarebbe un anno particolarmente complicato quando sarà finito quando avrò accantonato i problemi di quest'anno io non dico che mi ubriaco perché sono astemia ma ci pensiamo un attimo a come festeggiare allora aspettate che prima di perdermi qualche pezzo vorrei mettere le narici e l'interno delle orecchie che quello lo posso fare così non mi perdo i pezzettini gli occhi devo aspettare un secondo cioè non hai preso la fustella con le nuvolette Teresa adesso ti disabilito l'account è bellissima non so io sono rimasta folgorata poi è ovvio che sono gusti ci mancherebbe però veramente queste nuvolette con la faccina giriamo e lo mettiamo qua così la colla grazie al cielo diventa trasparente mettiamo anche le narici sul faccione una qui così almeno togliamo qualche pezzettino e evitiamo che gli alcolici che li abbiamo un po' dismessi un po' sono in cantina allora abbiamo fustellato queste nuvolette meravigliose adesso adesso ve le faccio vedere metto solo via le fustelline poi prendiamo una bustina anche per le nuvolette di moda scrap cioè io le trovo un amore allora ti disattivo l'account allora aspettate che ragioniamo su come assemblare Nina con un pochino più di spazio dunque pancino il pancino va messo piace tuo marito siamo preoccupati per tuo marito allora mettiamo il pancino di Nina qui e questo siamo sicuri che è qua allora il faccione andrà poi qui gli occhi li sistemiamo una volta che abbiamo deciso come posizionare il tutto devo decidere dove mettere le braccia perché se volessi metterle per esempio così una fa comodo incastrarla qui sotto e quindi ho bisogno di come dire pianificarlo prima mi piacerebbe che lei tenesse in mano la nuvoletta tenesse su Nina è un'ipopotamina felice la più grande è questa qua sì ce la possiamo fare dai è bellissimo allora dunque dobbiamo mettere gli occhietti così montiamo bene il visino le braccia le attaccherò dietro allora ti bamba vabbè ma io il correttore lo adoro allora mettiamo gli occhietti per mettere gli occhietti mi oriento un pochino con con il musetto ovviamente gli occhietti questi qui che ho che ho preso io direi che li mettiamo qui poi prendiamola non ne perdo una e mettiamo uno qui e l'altro qui così poi mettiamo la colla sul musino Nina è un'ipopotamina felice lei è felice imbarba tutto è carina che sembra la lingua è vero allora se vogliamo coprire qui possiamo inserire la la fustellata che viene fuori dal taglio del musino che è questa ok se invece volete lasciarlo scoperto e lei così sembra che stia ridendo che quella lì sia la lingua che è deliziosa e quasi quasi la lascerei così questa è colpa mia perché ho preso male le misure e quindi niente vabbè siete abituati adesso sto migliorando con il discorso progettazione fustella ve lo giuro mettiamo un dentino qui e un dentino qui se vi piacciono potete anche non dico lasciarla senza denti ma è bellina anche senza ok non è sdentata e la mettiamo giù bene così poi l'ho già messo potrei anche non mettergli i dentini ma ormai ho messo la colla ok ali di farfalla beh allora devo non le controllo perché tanto non ce la faccio se penso di pianificarlo la fustella di ottobre è il gattostrello e Sirius avrà le alucce da pipistrello l'abbonamento delle fustelle inizia da quello di agosto se volete recuperare potete ancora recuperare Osvaldo e Nina vi ho messo i link nella descrizione del prodotto allora attacchiamo le braccine devo poi ah ho dimenticato di fustellare gli occhietti questi qua caspiterina aspettate prendiamo ma guardate lo fustello direttamente dal suo grigio spero di riuscire ancora a metterglieli su ma dovrei dovrei riuscire intendo aspettate che prendiamo un pezzettino di grigio e mi fustello la pilla mi serve un tavolo più largo poi non so dove mettermi però allora in questa fustellina qua c'è la seconda boccuccia che non entra perfettamente lì dentro gli occhietti chiusi e le due pupille vediamo se riesco a mettere le pupille ma dovrei riuscire abbastanza tranquillamente ups un po' troppa colla anche un po' meno Clelia allora pupilla number one sono piccoli ma non sono come la cosa della serratura della porta che abbiamo montato l'altro giorno che avevo pure mal di testa allora mettiamole gli occhietti dritti però tu ti sei già incollata no ma ok scusate ma allora colla uno zinzinello allora se mi fossi ricordata di metterle prima sarebbe stato meglio un negozio più grande la serratura della porta è stata abbastanza impegnativa volevo farvi vedere guardate questa qui è la fustella di agosto Olivia manca solo un segno qui nel nel becco che ho fatto accentuare e Olivia e la fustella e la fustella e la fustella Anche questo mega, guardate adesso io non ho ancora incollato nulla, guardate se io la prendo e le metto le braccine, una qua incollata bene, adesso ovviamente abbiamo incollato il visino. Allora. Così. Amo, basta, adesso la smetto, mi sarei molesta, giuro. Sì perché Olivia ha, aspettate che ho letto una notifica, la fustella di Olivia se è fuori abbonamento costerà un bricciolino di più perché ha i vestitini, ha la sciarpina, il cappellino e i moon boot. E i moon boot, l'ho già fatto vedere, ma anche il cappellino, tutto, in realtà stanno perfettamente anche a Nina, se questo lo incolliamo qui sotto, prima di appiccicare il visino, lei ha la sua sciarpina. E ma guardate che se ci avessi provato non ci sarei mai riuscita, questi sono bianchi ovviamente però, ha il suo cappellino e ha anche i moon boot. Adesso ve li faccio vedere, che stanno anche a lei. Se ci avessi provato non sarebbe mai riuscita, ma su Osvaldo questa robina qua, i moon boot no, il cappello di Natale sì, la sciarpina, Osvaldo è l'unicorno dal collo largo, non ci sta. Però, vabbè, il cappellino di Natale glielo possiamo mettere. E quindi niente, sono molto contenta, mettiamo via, adesso la smetto. La smetto, adesso la smetto. Lui se ne infischia perché è un unicorno, mi sembra assolutissimamente che non faccia una grinza. Allora, mettiamo via questi, sono piena di bustine qua davanti, come delle vere amiche assolutamente. Allora, adesso incolliamo bene le braccina di Olivia che ho invertito e le mettiamo di modo che sembri che stia tenendo la nostra nuvoletta. Io la trovo meravigliosa, perché mi sposto un po' più a favore di campo. Ok, allora, devo incollarle. Allora, metto un punto di colla qui. Allora, un po' più in alto, così. Ok. E la seconda la mettiamo qui, così. È perfetta. Che si veda un pezzettino qui. Magari la incolliamo, lasciamo il tempo che passi, che tiri la colla. Eh? Non è carina? È delizioso. Vabbè. Ok. Queste le ho montate. Adesso montiamo la seconda scatolina. Sembra che sia appesa la nuvoletta. Mi sembra così carina, però. Allora, spostiamo questa qui e assembliamo la scatolina, la seconda. Così poi vediamo cos'altro ci serve ancora come fustellati. Dunque, questa qui è quella già montata. Sì, sono la nuova fustella di Natale. Dentro la fustella di Natale ci sono tutti i pasticcini. C'è la coccarda, c'è il lecca-lecca, c'è il muffin grande, c'è un dolcino piccolo. Di farle tenere l'arcobalge, però veramente fresca, rende l'idea. Allora, questo qui è craft, quindi in realtà anche senza ripassarlo con la pieghetta si riesce tranquillamente a piegare bene. Adesso prendiamo il biadesivo e la sistemiamo. Fatemi solo vedere in che senso devo farlo. Così e così, ok. Allora, un pezzettino di biadesivo. Qui questa è veramente fordammis, ce la posso fare molto serenamente. Questa è un'orecchia a biodiosvaldo. Allora, pieghiamo così e allineiamo perfettamente questa. Poi pieghiamo questo, spellicoliamo e basterà piegare questa parte qui sopra. E la nostra box è pronta. Vedete che lei si piega perfettamente ed è pronta per essere messa in una busta. Le conserve di pomodoro! Mamma mia! Ok, come dicevo che avrei incollato queste prima e ovviamente me ne dimentico in continuazione. Ma allora, queste in realtà basta incollarle così, qui da una parte e qui dall'altra. Fatemi fare una prova con lo svaldo. Valeria, io non ti ho detto niente, non è colpa mia. Se c'ero dormivo, se dormivo avevo mal di te. Guardate che carino! Ma è delizioso! Adesso gli mettiamo anche tutte le nuvolette dietro. Ok. Allora, inseriamo questi bagigi in tutte e due. Allora, l'abbonamento alla fustella. Tatiana, ho fatto un altro prodotto in abbonamento, me l'avevano richiesto in parecchi per avere sempre la fustella del mese, che è quella dell'animaletto. Una così. Questo l'ho messo, uno l'ho messo dal lato sbagliato. Vediamo se riesco a togliere anche il biadesivo. Ui, sono scarpato. 260 kg di pomodori. Oh my goodness! Sono tantissimi! Aspettate che qui ho piegato male. No, questo l'ho piegato male, ormai non credo di recuperarlo. Ah, perché questo invece l'ho piegato benissimo. Così. E così. Allora, iniziamo a metterne una. Allora. Questa cosa qui sarebbe stato da fare prima di incollare, ma siccome ovviamente me ne sono dimenticata, adesso posiziono un pezzo qui e un pezzo qui. E l'ho fatto, lo piego così, vedete? Chiudendolo così, in realtà lui si dovrebbe posizionare perfettamente nella posizione che ci occorre affinché ci sia lo scalino. Lo scalino in gradinetto dentro. Come deposito. Guardate, ho il corridoio di casa pieno di scatole, pieno, pieno, pieno. Sto seriamente valutando l'affitto di un magazzino esterno perché gna si fa. Guardate. Così. Ok. Allora. Posto che io vorrò mettere dentro uno svaldo e una nina. che pensavo di dover tagliare nina e invece ce la facciamo tranquillamente senza, quindi non vi preoccupate. Nessun dolore verrà inflitto alla nostra nina. Allora, come prima cosa, inizio ad incollare i due animaletti. Metto un po' di colla qui. e la posiziono più o meno così. La nuvoletta sarà qui sopra. Possiamo usare questo pannellino qui dietro come sfondo. Faccio la stessa cosa con lo svaldo. Suo svaldo provo a mettere un po' di colla qui sul pancione e vediamo. Sì, è perfetto. Lo svaldo occupa tutta la scatolina. È bellissimo. E lo fermiamo qui così. Ok. E li mettiamo qui. Allora, per quanto riguarda nina, posso attaccare la mia nuvoletta così. Quindi metto un zinzinello di colla sulle manine di nina. E posiziono la nuvoletta. Lo faccio guardando così. Così. E poi la lascio così. Finché si asciuga. Ok. Lo svaldo è lì che si asciuga. Allora. Abbiamo poi qui queste altre nuvolette. Adesso ci tagliamo tutto il resto che ci può servire. Io direi che dentro mettiamo un solo pannellino. Poi vediamo. Ne abbiamo altri due se volessimo fare degli altri strati. Perché qui sarebbe carino in realtà fare un altro strato con le nuvolette. Ma qui, per esempio, in questo caso, potremmo semplicemente sfruttare il pannellino e mettere il sole, le nuvolette. Insomma, adesso vediamo. Prendiamo la Big Shot, per esempio. Scusate un secondo che c'è un momento di avervi. Ok. Eccomi. Che poi non è allergia, come ho scoperto con le ultime visite allergologiche, però. Allora. Big Shot. Andiamo a riprendere un secondo la fustella della Low Fun, per riprendere gli spazi della mattatura. Allora, fatemi vedere, perché in realtà noi abbiamo questo spazio qui, che dovrebbe essere uguale a questo spazio qui. E invece questo è più grande. Ah, questo sarà per la parte sotto. No, non capisco. Ah, questo è per questo che è scallop, e questo qui è per questo qui che è normale. Ok, perfetto. Ne dobbiamo fare quindi uno, due. Bah, adesso vediamo quanti. Per ciascuna non li so contare. Ma adesso tagliamo via questi, che non ci permetterebbero di tagliare il pannellino intero. Questi qui sono i bastoncini per creare il bannerino, il bunting. Questi qui si piegano a metà. Queste fustelle hanno un sacco di cosine, di accessori. Che tavolo in disordine che ho oggi, mamma mia. Allora, iniziamo a decidere, per esempio, con che carte fare questo tipo di rivestimento. Allora, io mi sono presa, in modo da scrap, oltre a quella gialla, questa qui. A righe, a quadretti. Che mi sembra deliziosa, mi sembra molto molto neutra. Io amo questa tonalità di colore, lo sapete. Allora, chiudiamo qui un secondo. Prendiamo. Ma in realtà io poi non sono risultata allergica a nulla. E da quando mi hanno fatto la diagnosi giusta, effettivamente non uso più il Vixinex dall'oggi al domani. E' una cosa pazzesca, come quando mi hanno... Uh, qua c'è un pezzo di linea, mettiamola subito via. Come quando si azzeccano la diagnosi, poi passino tutti i fastidi. A me è successo il contrario, Sabrina. Per anni mi hanno detto che ero allergica. E poi in realtà si scopre che non lo ero. Per niente. Non sono allergica praticamente a niente. Vabbè. O solo la dermatite allergica, ma quello è un altro discorso. Allora, aspettate che questo, cercando di trovare lo spazio per tagliare. Che non è semplice. Allora, tagliamo una striscetta di questo. Ok. E con questo qui taglierei i pezzetti più grandi. Vale a dire Queste mattature qui più grandi. Ok. Che sono per la parte sotto. Oppure li tagliamo per... Ne tagliamo un po' un po', che così possiamo decidere. Però questi li farei di un altro diverso. Facciamo così. Proviamo, non sono certissima. Sì, le allergie sono fetenti. Sì, ma per anni ho pensato di essere allergica. Cioè, mi hanno detto che ero allergica. Poi mi piace. No. Not really. Allora. Vediamoli subito. Questi due pannellini hanno tutti e due l'impuntura. Magari su questa carta si vede un pochino poco. Mamma mia, qui i quadrati sono storti. Chissà se mi sta guardando la Germana. Allora, prendiamo Svaldo. Il pannellino più piccolo. Lo mettiamo da qualche altra parte, perché è storto. È per questo qui. Mentre il pannellino più grande... Ma in realtà potrebbe andare bene anche qui. Perché... Ah, questo è ancora da mettere dentro? No. Non lo so. Sinceramente non lo so. Io metterei questi più grandi. Mi sembrano più bellini. Allora, lì metterei il sole. Però qui metterei tranquillamente questo. Guardate, inizio ad incollarlo. Ok. Qui ci vogliono due pannellini di quelli quadrati. Che a questo punto io farei con questo qui più grande. Sì. E li tagliamo sempre da questa carta qua. Ne taglio due. Cerco di tagliarli dritti, prometto. È storto, ma infatti ce l'ho qua. Lo mandiamo nel paradiso dei ritagli. I promise. Il più grande è per la parte sotto. Ok. Ah, vabbè, ormai l'ho incollato. Lo dico, pazienza. Questo lo mettiamo qui. Ed è il più grande. Sì. Ne tagliamo un altro. Temporale. Eh, qua è fatto prima. Come diceva prima Claudio, sembrava di essere in Amazzonia. Così. Perché vorrei una cosa abbastanza neutra. Allora, lo mettiamo qui. E lo mettiamo qui. Solo che alla Germana non va bene neanche se li mandano il paradiso dei ritagli. Cioè. Ok. Aspettate che questo lo raddrizziamo. Ok. Questa una volta chiusa sarà così. Ok. Eh, ma anche qua stava alzando un'umidità che addios proprio. Eh, lo so. Allora, tagliamo il quadratino giallo, il rettangolino giallo, per la parte posteriore al nostro piccolo svaldo. E poi decidiamo come mattare il resto. Faremo lo stesso tipo di ragionamento e di step anche per Nina. Allora, a Nina abbiamo messo le nuvolette. A Osvaldo potremmo mettere le stelline bianche e dobbiamo tagliarci anche i quadrati e i rettangoli per qui sotto. Quelli più grandi che sono qua. Ce ne servono qua due e due fondamentalmente. Faccio già che tagliarmeli. Eh, di questo qui, eh, no. Usiamo sempre questo. Abbiamo detto due e due. Vediamo se mi avanza un pezzo di questa. No, ne taglio un'altra strisciolina. Ho imbarcati a causa dell'umidità. Anche una volta ho fatto un mercatino qua vicino, ogni anni fa. Mi ha imbarcato, ho buttato via tutto. Perché poi la carta, una volta che la imbarchi, addios. Cioè, non... Cosa ci fai? Avevo tutte queste cornici, tutte buttate. Ero tristissima. È finita presto la mia carriera nei mercatini. Allora, cerchiamo di tagliarli dritti, questi qui, che poi mi sgridano. Il sole ad osvaldo, però il sole l'ho fatto... Ho fatto lo sfondo lì giallino. Adesso vediamo. Ah, la stiri. Sai che non ce l'avevo mica pensato? È una bella idea. Io avevo campato via tutto, purtroppo. Ok. No, io ho retto poco con i mercatini. Vi dico la verità. Ok, e tagliamo. Ok. Questi li lasciamo qui, che tanto adesso ci serviranno anche per Nino. Allora, attacchiamo questi qui. Allora, col biadesivo, come sempre, si fa un lavoro più bellino. Io adesso sono un po' di corsa, perché sto facendo il live. Così. Così. E l'ultimo. Adesso. Siamo a questo punto qui. Allora, nella fustella di moda scrap che ho preso... Ah, poi volevo mettere un fiocchetto. Lo metterò lì il fiocchetto. Ho preso la fustella di moda scrap apposta. Allora, possiamo fustellare il sole, ma fustellarlo bianco, un sole così pallido, mi sembra, insomma, un pochino grigino. C'è la nuvoletta che tiene in mano la gocciolina, che io trovo che sia una roba di una dolcezza mai più finita. Mi piace tantissimo. C'è la luna. Allora, o prendiamo un altro giallo, potrei prendere un altro giallo e fare il sole da mettere qui. Qui così. Luna e stelline. Anche luna e stelline è carina. Però per la luna... Oh là! Dobbiamo prendere un altro colore. La luna ha poi questo addon con il nastrino, con i cuoricini, che è la muerte sua, tanto è bellino. Dobbiamo solo decidere di che colore farla, la luna. Bianca bianca mi sembra un po' eccessivo, sul giallino ci si perde. Potrei andare a prendere un altro colore, potrei andare a prendere un altro colore delle carte di moda scrap, magari, e vedere di assemblarlo così. E prendo anche un biadesivo, scusatemi, un acetato. Allora, il mio acetato forse è un po' sottile, vediamo se si riesce. Ma se avete l'acetato litresistant o quello che togliete magari dal retro dei timbri, dal retro degli sticker che hanno l'acetato dietro, è perfetto per fare quello che vogliamo fare. La luna argentata, che è l'argento specchiato è un po'... beh, potremmo prendere l'argento matte. Aspettate un secondo che lo prendo. Allora, questo è il basil foil matte, quello opaco. Proviamo a tagliarci la luna e vediamo se ci piace. Io penso che ci piacerà, intanto le fustelle di Nino Osvaldo le metto qui, che per ora non mi servono. Dovrei aver tagliato tutto quello che mi serve. Questa è la bustina di moda scrap, perché tanto non riuscirò mai più a riutilizzare. Allora, tagliamone un pezzettino. E proviamo a tagliare la luna, quella col faccino, che è qua. Se ce la faccio prenderlo volentieri, ok. Allora, iniziamo a tagliare lei e poi vediamo il filo di che colore farlo, il filo con i cuoricini. E poi tagliamo due stelline. Le stelline le facciamo bianchine. Ho deciso che va bene. Teresa, l'hai già comprata, sta bustella. Un amore. Allora, non la incollo ancora. La lascio qua. Questo è il filo che dalla luna viene giù con il cuoricino, se riesco a tirarlo fuori. Eccolo qua. Ok. Allora, questo lo tagliamo. Magari lo tagliamo nel giallo, un po' mi si perde. O nel craft. Prendiamo un pezzettino di craft. Oppure nel bianco. Facciamolo nel bianco, che così insieme ci tagliamo anche le stelline. E allora. Qua. E imprendiamo anche questo blocco di stelline. Queste sono le goccioline. Queste sono le braccine della nuvoletta che tiene la goccina. Io lo trovo delizioso. Ok. Fustelliamo. I fiocchi. L'altra festella che ho preso di una scrap, li facciamo alla fine. Il cuore, il mago, lo siamo poi a una serie di cose qui, assolutissimamente, certo che sì. Allora, le stelline con la faccia. Che ve lo dico a fa? Le teniamo lì. Allora, questo ha un po' lo stesso principio che piace tanto a me, per cui c'è il pezzo intero. E poi il cuoricino lo possiamo rifustellare in un altro colore per dargli un pochino più di risalto, un pochino più di interesse, come dicono i nostri amici americani. Io prendo un pezzettino di craft, se ce l'ho, guardate, me ne basta proprio un'antichietta. I pad glitterati. Vanno bene per la big nuova? Penso di sì. Devo guardare. Sai che non ho più guardato se ci sono, Claudia? Vuoi provare a fare un trovalo per me? Che te lo controllo, perché adesso mi dimentico assolutissimamente. Da qua, quando finisco il live, ho resettato la testa. E quando dico che ho dei problemi in memoria, cioè sono seria, non è per fare la battuta. Ok. Allora. Prendiamo la luna, intanto. Scusate, lavoro in un... un micro pezzettino di spazio. Allora. La non ne perdo una. Ce l'avevamo qua. E l'abbiamo smarrita. Che non va bene. Beh, sarà qui da qualche parte. Però adesso mi serve un... Eccola qua. Allora. Cerca cutting pads. Allora, vediamo un po'. Vedete? Lui ha la gobbina che si aggancia lì. Se non ho visto male. Allora. Mettiamo con questa colla qui. Adesso liberiamo. Così. Mettiamo uno zinzinello di colla qui dove fa la gobbina. Dove fa la curva. E lo allineiamo qui. Per fortuna poi la colla diventa trasparente. Sul cuoricino... Stai fermo. Mettiamo un'altra antichietta di colla. E andiamo a mettere questo qui craftoso. Lo giro solo un secondo e vedete che fa questo effetto qua. E' delizioso. Allora, la nostra luna la attacchiamo qua. Ah, però questo in realtà sicuramente andava così. Ok. Vabbè, tutto a posto. Un pochino di colla. L'illoggi è utilissimo. Ok. Perfetto. E poi abbiamo le stelline. Prendiamo... Mi serve una bustina vuota per poter mettere le fustelle di moda scrap. Aspettate che la prendo. Scusate, ma poi ho il terrore di perdere i pezzi delle fustelle. Quindi li mettiamo qua. Poi, tutte queste. Poi adesso decidiamo... Da Nina metteremo il sole, ovviamente. Allora... Ah, non ho preso l'acetato. Chissà se ne ho un pezzo... No, prendiamo un pezzetto da lì. Allora, in questo tipo di card si usa spesso l'acetato per aggiungere elementi. Adesso vi faccio vedere come. Sì, queste buste sono in vendita. Sono... Le trovi come le buste della Clé. Ci sono quelle a 5. Tra poco, credo in settimana, pubblicheremo anche quelle per le slimline. Che sono un po' più grandi. Non ho ancora le buste, quindi... Allora, ne tagliamo un pezzettino. L'idea è di tagliare una strisciolina su cui poter appiccicare una stellina. Quindi, diciamo che taglio una strisciolina da un centimetrino, un centimetro e mezzo al massimo. L'altezza è relativa, nel senso che decidiamo noi. Quindi, guardate, oh, qui c'è un pezzo della stella di Natale. No buono. Scusate, ma a furia di aprire e far vedere, ne ho perso un pezzo. Questo lo mettiamo qui dentro. Allora, voilà. Allora, mettiamo la colla. Ce la posso fare? Qui. E mettiamo una stellina. L'idea è, adesso io ho messo un unico elemento centrale, ma se adesso ne vado ad attaccare un altro. Qui dietro. E attacco il mio accettato qui. Posso creare una serie di timbri, fustelle. Allora, i timbri, credo lunedì, le fustelle a metà settimana. Perché i timbri me li ha già spediti. Allora, attacchiamo questi due intanto. Senza saperne leggere né scrivere, iniziamo a fare due robe. Che così togliamo un po' di cose. Vi adesivo. Eccoti qua. Io le ho fatte lunghe e un po' più larghe. Così ci stanno anche eventuali cartellini. O se avete degli add-on, potete metterli dentro alla fustella originale. E quindi li ho pensati più larghi. Allora. Io adesso questo l'ho messo al centro, ma in un'ottica di... Guardate, li metto qui dietro. Chiudo. E lui va a posto. Ok. La mia stellina... La posso attaccare qui così. E vedete che l'effetto sarà questo. Se io qui metto... Ho un pezzettino... Faccio prima col biadesivo, guardate. Ne metto un pezzettino qui al fondo. Lo spellicola. E lo attacco qui. Aspettate che lo attacco. Vedete? Pucciunin. Di cosa state parlando del pucciunin? Che meraviglia! Stellina. Allora, un paio di stelline le attacchiamo anche qua. Ma creiamo tutta una serie di dimensionalità con le stelline che facciamo sbucare così. E questo. Guarda, Anna, arrivo da una settimana, quasi dieci giorni di mal di testa, pressoché continuo. Quindi sono provata. Sono veramente tanto provata. Sono stanca. E non mollava più, so cavolo di mal di testa. Oh. Allora. Ah, il mio sistema di visualizzazione. Il pucciunin. Non mi hanno inserito nel sistema metrico quello nazionale. Non capisco perché. Non c'è boh. Vabbè. Un altro pezzettino di acetato. Più piccolino perché mi è rimasto una stellassa piccolina. Diciamo che taglio anche un pochino meno di un centimetro, magari. Guardate. Metto qua. Ogni tanto mi capitano questi periodi di mal di testa. Va così. E poi è un periodo intenso. Diciamo che la collezione di Natale mi ha... Cioè, la collezione di Natale. Nel frattempo ho mandato in stampa tutto quello che serve per la collezione d'autunno. Sto preparando la seconda di Natale. È quasi pronta. Insomma. Stiamo trottando. Mettiamo il biadesivo. Potrei anche metterlo qua davanti. Di modo che salti fuori così. Guardate. Ne metto un pezzettino proprio sul fondo. Così. Lo spellicolo. E l'attacco qua. Solo frullata rende perfettissimamente bene l'idea. Sì, sì, sì. Ok. E noi abbiamo il nostro Osvi. Antichietta, Zinzinello, Pucciunin. La bomba ha spedito anche le microne. Ma allora, io devo dire che ultimamente mi sono venuti due attacchi d'aura. Che era tanto, che non mi capitava. Ma la stanchezza di questo periodo è tanta. Quindi penso che sia in realtà solo quello. Però è spossante. Chi soffre di mal di testa lo sa. Insomma. Uno ne farebbe anche a meno. È carino, vero? Allora, qui poi ci rimarrebbe da aggiungere un fianchetto, un piccolo sentiment e saremmo a posto. Facciamo la scatolina di Nina. Con la stessa logica. Solo che per Nina abbiamo usato la nuvoletta. Quindi qui dietro io farò lo sfondo giallo e il sole. No, non lo faccio giallo. Perché sennò non posso mettere il sole. Quindi lo faccio con la carta a quadretti. Oppure vado a prendere un'altra fantasia. Vado a prendere un'altra fantasia delle carte di moda scrap. Ok. Eh, mal di testa e tosso. Chi non ne patisce magari fa fatica a comprendere quanto sia invalidante. Io devo dire che sono fortunata. Non sono una di quelle che anche quando a Laura ha bisogno di mettersi a letto, di stare al chiusa. Però arranco. Arranco tanto. Dico cose strane. Sono più tronata del solito. Ecco. Vado a prendere un'altra carta per fare la cardenina. Arrivo. Vado a prendere un'altra carta. Scusate, ho spostato le carte di moda scrap e sono finite. Ma sai che non c'è un azzurro? C'è un verdino. C'è un verdino nell'altra collezione. Ho preso questa che è la numero due. Mettiamo i cuoricini e poi ci mettiamo il sole. Qui teniamo il nostro acetato. Allora. Per la concessione del mondo. Un analgesico. Ah, io vado a botte di due aulino alla volta quando lo sento arrivare. Quindi, insomma, mi difendo. Allora, questa carta poi ve la aggiungo. Dunque, qui dietro, quindi, prendo il quadratino più grande e lo uso per questa parte qui. Poi gli altri vedo se usare il giallo. Magari metto i cuoricini ancora qui e qui ci metto il giallo. Adesso vediamo. Oppure posso fare tutti i cuoricini qua e sotto il giallo. Adesso vediamo. Per farle un pochino diverse. Intanto magari, allora, fustelliamo anche questo. Così. No, volevo quello più grande che è qua. Ok. E fustelliamo. Quindi abbiamo detto che qui dietro, Nina, mettiamo i cuoricini. Ok. E lo metteremo qui. Devo tagliare il sole. E di questi me ne servono altri due, in buona sostanza. Ahia. Ti bombi in prevenzione. Eh, l'endometriosi è un'altra brutta bestiola. Io credo di soffrirne, anche se degli esami non risulta. Sopravviviamo. È una bella bega anche quella. Ok. Poi. Iniziamo a montare questi e poi decidiamo il resto. Perché dunque di nuvolette dovrei averne abbastanza. Allora, incolliamo questi. Così. E uno sarà qui e poi adesso ci mettiamo il nostro sole. Questo sicuramente non andava così, però vabbè, io ormai lo metto così. Poi, qui mettiamo questo che così poi ci mettiamo un bel fiocchettino giallo. E passa la paura. Così. Super neutral. Che è sempre bello. Mi piace sempre tanto. E quindi Nina, al momento, è così. In realtà, poi questa si potrebbe anche chiudere così. Si potrebbero decorare anche queste parti qua. Io la, però la lascio così. Attacco questi due. Ce ne vorrebbe uno davanti e uno dietro. In qualche modo adesso facciamo. Allora, prendiamo questi. Prendiamo un pochino di biadesivo. E fissiamo questo pezzetto qua. Questo è piegato stortissimo, ma credo che riusciremo comunque a fargli fare il suo lavoro, secondo me. Allora, qui ho tagliato un pezzettino troppo grande. Lo ribalto semplicemente qui su. Allora, lo metto dietro. Lo chiudo per farlo aderire. Molto semplicemente. Qui ho fatto la piega, così. E quando lo riapro è a posto. Ok, prima di fare qualsiasi altra cosa, riprendo un pezzettino del giallo. Perché secondo me nuvolette ne abbiamo abbastanza. Ma vorrei il sole. Il sole, dunque il giallo ce l'ho qua. Adesso lo prendiamo, eh. Più un pezzettino. E lo fustelliamo. Poi ci sono, vedete, un sacco di nuvolette anche senza faccina, ma io mi sono innamorata di quelle con la faccina. Quindi usiamo quelle con la faccina. Allora, il nostro amico sole. Prendiamo l'attrezzino per le fustelle. Vabbè, è delizioso. Non mi è venuto tanto il solco degli occhietti, ma poi ci mettiamo al limite due piccole perle. Allora, lo mettiamo qui nell'angolino. Quindi metto un pochino di colla qui e lo faccio uscire di qua. Allora. Quindi avremo poi Nina così. Ok. Allora, le nuvolette che noi abbiamo. Aspettate che mettiamo via un po' di pezzi. Ho paura di perderli. Qui poi ci sono pezzi di osvaldo, vari eventuali. Allora, questi li possiamo anche mettere qua. Che tanto per ora non ci servono. Abbiamo nuvoletta grande, due nuvolette piccole. E volendo potremmo rifustellare il blocchetto di nuvolette che c'è nel set. Io ne metterei una qui e una magari la metterei qui che viene... Ah, è che l'ho messo dietro questo. Avrei potuto metterlo davanti che secondo me era più bellino. Chissà. È un po' estrema questa cosa, non rifatela. Perché correte il rischio di dare il giro a tutto. Ma se voglio cambiare... Ok. Volevo cambiare... Volevo metterlo davanti. Questo pezzo rovinato non lo vedrà nessuno, tanto. Ok, teniamolo così. Ci siete ancora? Mi sa che mi si sono bloccati i commenti. Voilà. Perfetto è un'altra roba. Ma nessuno di voi da me si aspetta onestamente nessun tipo di perfezione. Quindi siamo a cavallo. Ok, sì, ho visto un like, quindi ci siamo. Non siamo spariti. Sapete che Facebook ultimamente fa un po' di cose strane. Allora, prendiamo... Allora, una nuvoletta l'attacchiamo semplicemente dietro. Può essere qua così. E questa nuvoletta qua l'attacchiamo sul nostro acetato. Ne tagliamo una striscetta. Un po' più larga delle altre, perché il nostro elemento è abbastanza grandino. Così. Mettiamo uno zinzinello di colla qui e mettiamo la nuvoletta qui. Adesso taglio le braccine e la gocciolina e la incollerò qua davanti. Siete svenute per l'ultima operazione. Successo niente. Tutto a posto. Allora, qui ci sono le braccine della nuvoletta e qui c'è la gocciolina. Le braccine della nuvoletta le faccio grigie. Le goccioline le potrei fare argentate così come abbiamo fatto la luna dall'altra parte. Allora, le prendiamo un pezzettino di tutte e due. Guardate che è un pezzo di grigio accartocciato qua e invece può andare benissimo. Allora, devo tagliare una gocciolina, ma la fustella è unita, quindi la gocciolina la tagliamo nel foil. e le braccia nel grigio. Siete tutte concentrate, bene, così compensate col fatto che io un po' meno. Abbiamo ancora una nuvoletta qua. Dunque, dunque. Vabbè. È un amore. Qui ci sono le braccine in grigio. E la nuvoletta più grande. Io credo che useremo la nuvoletta più piccola, ma adesso mi riservo di decidere. Allora, mettiamo questo qua. Fatemi fare un briciolo, provare a dare l'idea che sto cercando di mettere in ordine. Allora, questa è la nostra nuvoletta sull'acetato. Le braccine saranno così. Adesso io non le sto incollando, le sto solo posizionando. Ho messo la nuvoletta al contrario, che non si vede il faccino. Vabbè, poi gli mettiamo due perline in modo che si vede il faccino. Probabilmente con la precision plate fa troppo spessore. Ma ci sta anche la gocciolina grande. E' deliziosa. Allora, uno zinzinello di colla. Allora, ho un po' paura a mettere a mettere le perle qui per fare gli occhietti, perché ho paura che poi per l'acetato diventi ah vabbè, l'ho messo al contrario, non importa. Diventi troppo pesante. Ma vediamo. Mettiamo la gocciolina cicciona. Cicciona. Guardate. Così. Adesso io vorrei mettere due mini questi ci vorrebbero le perle di moda scrap, le mezze perle, oppure io qui ho i drip drops o i cosmic. Se ne troviamo due sufficientemente piccole ci servono anche per il sole. Vediamo. Potrebbe essere questa. No, è troppo grande. Le rovescio qua. Rischio e pericolo. Vabbè. Uh, mamma. Ecco. Vabbè, non succede niente. Poi le raccogliamo. Un occhietto, due occhietti. E' troppo grande. Ne ho più piccole qua. Fammi vedere queste. Sì. Occhietto. Vabbè. Non sono proprio piccolissime. Ma poi, insomma, è deliziosa. E' che un timbro con gli occhietti devi beccarlo della dimensione giusta e della... Devono essere distanziati giusti se no la nuvoletta sembra strabica. Adesso è bello lo strabismo di Venere, però. Allora, prima di fare qualsiasi altra cosa noi la nostra nuvoletta la mettiamo qua così. La mettiamo qua. Così ruba un po' la scena. Nina? Lei ruba un po' la scena. Forse è meglio se la metto dietro. Adesso devo disfare tutto. E' un po' grandina. Mannaggia. Potrei mettergliela qui dietro che sbuca così. Guardate. No, così è meravigliosa. Ho deciso. E' così. Mettiamo un pezzettino di biadesivo. E' delizioso. Cucu. Gli occhi a palla. Allora la incollo qui dietro con la striscia di biadesivo posso fare quello che voglio quindi in realtà Hello? Ah, no, vabbè. E' deliziosa. E qua davanti potrei metterci un'altra nuvoletta. Anche questa nuvoletta mettiamo gli occhietti. Mamma mia li sto rovesciando tutti. Benissimo. Allora impalliamo anche questa nuvoletta che si vede che la mia precision plate è un po' troppo spessa. Allora questi sono un po' grandini però tu e anche tu secondo me potresti andare bene se riuscissi a girarti. Ciao sono bellissima Allora mettiamole dato che adesso ho queste tutte sparse qui anche sul sole il sole sempre con quello piccolo che faccio Hello? Poi qua e qua sempre quelle più piccine no così è un occhio più grande dell'altro così questo un briciolo più in là così no vabbè adoro allora raccogliamo solo un secondo i Cosmic Drip Drop questi sono i Cosmic Drip Drop ma se avete se volete farle con in uvo se volete fare con le mezza perle di moda scrap va bene un po' tutto io adesso avevo questi sul tavolo e quindi ho usato questi ma dovrei tenermi qualche bustina di semiperle qua per ogni evenienza hop allora prendiamo questi così così e così allora chiudiamo questi e adesso dobbiamo no dobbiamo attaccare lei e poi dobbiamo fustellare i rettangolini gialli intanto qui dentro intanto qui dentro questo si è staccato perché in realtà non si era mai attaccato bene come avrebbe dovuto noi gli mettiamo un po' di colla sono molto belle sì tenere in ordine le carte sì lascio parlare le esperte perché io non proprio allora scusate ma qui stiamo forzando una piega che non è che proprio gli fosse piaciuta molto più o meno ok questa qui la mettiamo su un altro pezzettino di acetato alla fine regge bene anche con il mio anche se è molto leggero ne prendiamo una striscetta la nuvoletta è larga quindi vi consiglio di tenersi un pochino di di tenervi un pochino di margine la incollo così e poi deciderò a che livello inserirla magari qua che sia proprio giusto al fondo prima di intanto che lei si incolla tagliamo le parti gialle che ci servono per decorare la scatolina sotto e le taglio nella carta di prima dovrò penso tagliarne un'altra striscetta ma adesso vediamo e poi non ci resta che tagliare i fiocchetti e siamo a posto e anche oggi il live è lunghissimo ho detto faccio una cosa veloce non ce la faccio a fare cose che durino mi perdo poi in ciance chiacchiere si me ne serve un altro pezzettino giallo e facciamo così e facciamo così qui sono rimaste le braccine delle nuvole che mi hanno che mi hanno inciso la fustella ma non succede niente non vi preoccupate se succede tendenzialmente continuano a fare il loro lavoro egregiamente anche se sono state passate nella big con un'altra con un'altra fustella a me è successo piuttosto spesso allora mettiamo la colla così assemblamento di nuvole vabbè loro possono sono nuvole scommetto che sono tutte vaccinate io i miei i miei le pieghe dentro sono fatte veramente male oh mamma mia guardate qua come ho messo la colla tutta storta così ok allora ne manca uno qua perché si è staccato così allora attacchiamo questa nuvoletta qui con un pochino di biadesivo qui questo pezzettino qua sotto in realtà lo posso anche tagliare e io in realtà la metterò qua così è carinissimo vabbè chissà se ho un'altra nuvoletta bianca ci starebbe giusto bene lì ma vabbè se no la lasciamo anche così allora mettiamo via la fustella new baby e tiriamo fuori quella dei fiocchi è il pad magnetico quello che uso sotto la precision plate magnetic platform sembra che si chiami allora prendiamo la fustella l'ultima che ci mancava da aprire che è questa qui dei fiocchi questa fustella dei fiocchi ci permette di fare quattro fiocchetti il piano di team nero bisogna vedere se è disponibile l'ultima volta che me l'hanno chiesto era esaurito però se fai il trovolo per me controlliamo allora sapete che io amo tantissimo i fiocchi un po' meno le bustine così ok mi piacerebbe fare questa qui giallina per nina e magari o questo o questo per il nostro osvaldo allora dunque questo qui dovrebbe essere questo anche in nuvole esatto allora una fustella sola che ci taglia tre pezzi è fantastico sapete che io adoro questo tipo di concept ci fa risparmiare un sacco di tempo prendo un pezzettino della gialla della carta gialla di prima fustello i miei pezzettini e assemblo il mio fiocco allora sicuramente sicuramente sapete assemblare fiocchi ad occhi chiusi questo lo faccio per chi magari è nuovo e non ha particolare dimistichezza con l'assemblaggio di questo tipo di fustelle io arrotondo sempre un po' la parte del fiocco con un con un pennello con una penna adesso vado a mettere un po' di colla lì ma in realtà adesso ho il biadesivo che è un pochino più largo ma se mettete un pezzettino di biadesivo e poi la colla è molto facile aggiungiamo un puntino di colla ne ho messo proprio un'antichetta e poi portiamo i lembi si assemblano tutti così penso che sia così anche questo i lembi qui ok fatemi vedere se somiglia a quello che ha fatto la Modellini è un po' più chiuso qua quindi ho sbagliato qualcosa questi vanno più sovrapposti aspettate che lo faccio dall'altra parte vedete mettere la colla mi salva ok mettiamo di nuovo un pochino di colla devono essere sovrapposti quindi dovrebbe essere più o meno questo dovrebbe andare dentro quindi così allora uno qua e uno qua a me non si sovrappongono tanto perché sbaglierò qualcosa perché questi vanno allineati tutti qua così sicuramente questi bordi qui devono essere tutti allineati perfetto infatti entra un altro goccino di colla e quale ho messo prima è un po' indifferente però uno conviene mettere un altro pezzetto di biadesivo o un punto di colla è saltato un occhio no no dalle nuvolette non ho allora così poi abbiamo questo pezzettino qui che va incollato sotto a me non è venuto chiuso bene come quello della modennini ma adesso mi eserciterò e sicuramente perché questi vanno allineati meglio adesso mi incaponisco scusatemi allora tu vai qui l'avrà fatto sicuramente vedere nel live e io me lo sono perso ok e tu vai qui sopra così poi colla tu vai sempre qua e tu vai sempre sovrapposto sulla stessa striscetta quindi così non si sovrappongono lo stesso i miei ma vabbè ah ma perché forse qua davanti questo qui è il retro tutto a posto si incrocia sul davanti ecco perché allora mettiamo un po' di guardate faccio io di solito metto sempre prima questo e lo metto in questo modo colla questo al centro cercando di coprire i lembi da qui qui non mi sembra che ci sia vento ma sono chiusa completamente il negozio quindi potrebbe essere che non lo senta io di solito lo sento subito il vento però allora qui non mi è venuto benissimo ma voilà e il fiocchetto aspettate che lo teniamo su così allora ho girato troppo questo magari ci mettiamo una mezza perla lì per coprire così ok qui non mi piace proprio come è venuto questo ma ormai a meno che non ne tagliamo un altro e non ce lo rigiro su potrei le mezze perle che saltano no no sono tutte lì ah qui lì ce n'è una ma non era non era parte quindi va bene anche se è saltato non importa allora ritaglio quella parte lì perché così gliela rigiro sopra e copro un pochino il macello che ho fatto a furia di provare a girare e rigirare questo fiocchetto si assembla guardate ma facciamo una cosa più semplice che lo rifustello tutto e lo rifaccio check numero 2 intanto abbiamo praticamente finito quindi siamo a posto bisogna studiarli i fiocchetti bisogna capire come vanno assemblati al volo così come sempre allora prendiamo il nostro pennellino per girare le alette guardate la parte questa qui è il davanti quindi io adesso ci metto comunque un pochino di biadesivo se avessi quello più sottile sarebbe meglio ma sono rimasta senza adesso poi me ne apro un altro e quindi devo guardare devo guardare questa parte qui non mi riconosci i comandi con la sinistra ok devo allinearlo qua così vedete che si incrocia perfettamente anche questo lo giriamo in modo che sia allineato qui dobbiamo rimettere un pezzettino di biadesivo qui ci vorrebbero i punti di colla che adesso non ho qui a portata di mano allora stessa cosa allineiamo qua così e questo sopra così e vedete che si incrocia perfettamente adesso questo pezzettino voilà ah perché non hai abbastanza colla ok adesso dovrebbe essere a posto questo pezzettino qui deve girare intorno ok io di solito metto il biadesivo ma questo qui è un filo è giusto 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 corriamo il rischio di fare un po' di pasticci io metterei la colla e farei questo e lo girerei qua così questo andava inserito più giù arrotondi con la pieghetta io arrotondo sempre col pennello con le matite abitudine ok perfetto e adesso gli mettiamo la codina lo incolliamo sopra la codina e lui è a posto ok e lo teniamo lì intanto che la colla si asciuga facciamo l'altro fiocchetto allora l'altro di Osvaldo che è qua potremmo farlo con la carta a pois oppure potremmo farlo col giallo anche lui che in realtà sta bene vediamo se ho ancora abbastanza giallo per tagliare anche l'altro fiocco allora l'altro fiocco ma dovrei farcela l'altro fiocco che volevo fare per Osvaldo è questo qua allora prendiamo il giallo che mi è rimasto e lo tagliamo sì sono deliziosi ok sì ci sta così l'assembliamo e abbiamo fatto devo solo poi aggiornarvi il prodotto contenitore per cui ho aggiunto una carta e abbiamo usato il basil foil quello argentato però per il resto siamo a posto allora se non devo fare un ciak numero 2 anche di questo posso mettere via la big così lavoro con un filino più di spazio allora pieghiamo le alette fatemi tenere la foto perché ne ho scelto uno complicato le alette da piegare sono solo queste Clelia ah ho capito si arrotola ah serviva una double face ma non importa noi teniamo la fascetta bianca perché questo adesso noi lo andiamo a collegare qui così e vedete il fiocchetto è questo ed è fatto in un millisecondo tromba d'aria quotidiana ma sai che anche qui prima non una tromba d'aria però ha piovuto veramente tanto che come diceva Claudio sembrava di essere in Amazzonia allora un filino di biadesivo qua ah quella lì si hai ragione ma ho scoperto che non la fanno più mi sento in colpa ad usarla ok così e poi dobbiamo girarci intorno questo come tutti gli altri elementi dei fiorellini questo magari posso spostarlo un briciolino così e possiamo girare questo pezzettino qui qui intorno facciamo facciamo come abbiamo fatto prima un filino dei colla prendiamo la nostra bandina e la giriamo così senza forzare troppo e così guardate sono bellissimi questi fiocchi belli molto ok la cosa bella poi che fate una fustellata e avete tutti gli elementi del vostro fiocco allora questo qui è quello venuto un po' malino non mi resta che attaccare i fiocchetti abbiamo detto su Nina questo qua e lo attacchiamo qui così e sul svaldo questo qua e lo attacchiamo qui così anche con la carta a cuoricina avrei potuto farlo non ci ho pensato ok ma direi che abbiamo finito allora adesso ve le faccio vedere meglio sgombro un po' di cose qui che poi vado a docciarmi e a dormire si è dormito male qua stanotte perché comunque faceva parecchio caldo allora mettiamo via questo il tappo della nuvo mettiamo via il biadesivo devo prendere un'altra bustina per questa fustella di moda scrap sennò ho tutto a spasso allora oggi abbiamo provato la fustella di Lofan per la la cardina box è rovescio avrei dovuto metterlo al contrario in realtà credo cioè dalla foto mi sembra o forse l'ho arrotolato al contrario ah è sotto sopra vabbè non credo che cambi dici perché è giusto che si veda l'altra parte della carta perché qua si vede però vabbè allora cerchiamo di fare un briciolino di pulizia ma domani qua dobbiamo presentare la collezione nuova quindi qui c'è un cera c'era adesso non c'è più un drip drop allora dunque questa è la nostra cardina box con Nina è affollata ma Nina è felice anche le nuvolette sono felici cosa devono fare e Osvaldo Osvaldo ha due stiline però pensatelo per una nascita anche per un bimbo c'è effettivamente l'unicorno è perfetto e questi si possono mettere nella scatolina così domani mattina nove nove un quarto più o meno la solita ora a cui a cui faccio il live anche perché poi svengo sul divano subito dopo la domenica mi sono autoimposta di non fare ordini un po' anche il sabato ma oggi non ho resistito perché sennò poi lunedì ne la facciamo perché mi aspetto gli ordini spero insomma gli ordini per la nuova collezione quindi credo che lunedì saremo particolarmente indaffarate e abbiamo qui anche lillo e allora abbiamo usato la cardina box praticamente la pop up di hello fun che era un po' che volevo provare era un po' anche che me l'avete chiesto piano piano le proviamo tutte queste fustelle abbiamo riutilizzato Nina e Osvaldo che sono le nostre due fustelle vi ricordo che potete fare l'abbonamento e parte da agosto per la fustella e avrete quindi la fustella di Olivia e il flamingo Osvaldo e Nina sono Osvaldo ancora il prezzo scontato come se fosse in abbonamento se volete recuperarlo Nina la trovate sia col bundle che da sola abbiamo ancora diversi bundle penso che una decina ancora ci siano abbiamo usato le fustelle di moda scrap new baby e i fiocchi che sono deliziosi questi fiocchi sono bellissimi una sola fustellata e sono anche abbastanza facili da assemblare queste nuvolette io trovo che siano meravigliosi questi elementi che hanno messo nella fustella si sposano direi perfettamente abbiamo visto che Nina si veste a seconda della nuova fustella nel mese che facciamo va a prendere in prestito elementi dai dei suoi cuginetti diciamo e sono molto contenta che vi sia piaciuta domani ci vediamo intorno alle 9 9 e un quarto vi faccio vedere la collezione nuova ci saranno il bundle voglio tutto tutto tuttissimo il bundle basic la differenza è che nel bundle basic non avrete il pad 12x12 perché c'è un pad 12x12 e un pad 8x8 in quello inclusivo di tutto ci sono tutti e due nel bundle basic non ci sarà il pad 12x12 e non ci sarà la fustella tutti gli elementi saranno comprabili singolarmente quindi non vi preoccupate abbiamo tanto materiale quindi in realtà non vi preoccupate se i bundle che abbiamo predisposto che metto sul sito domani mattina dovessero finire siamo in grado di rifarli magari ci va solo uno o due giorni non vi preoccupate però questa volta mi sono organizzata per rifarli e che altro cos'altro vi racconto cocco a vanilla mi è rimasto fermo ieri non me l'hanno consegnato ma dovrebbero consegnare lunedì quindi lunedì sarà una giornatina veramente interessante ma domani ci allietiamo con la presentazione della collezione insomma spero che vi piaccia c'è un grosso lavoro dietro sono molto contenta mi piace molto sto iniziando a fare l'albumino che faremo la domenica prima di chiudere per le ferie e mi piace assai e per ora vi saluto buon pomeriggio buona serata ci vediamo domani mattina grazie a tutte per la compagnia ciao ciao ciao